Di recente si è parlato di Euro 7 e sono piovute polemiche, come al solito, a destra e a manca. Si è parlato quindi dello sviluppo che è stato fatto dalla Commissione Europea per andare a obbligare i costruttori a stringere ancora di più le emissioni rispetto all'Euro 6D, a partire dal 1 luglio 2025. C'è chi ha definito questa misura a favore dei motori a combustione, quindi garantendone un loro sviluppo ancora, ma c'è anche chi ha detto che in realtà è sostanzialmente la pietra tombale su qualsiasi sviluppo ulteriore possibile di motori a combustione, determinando di fatto l'arrivo delle vetture completamente elettriche. Chi ha ragione in tutto questo? Beh, indubbiamente dare una risposta definitiva è praticamente impossibile. Eppure, spero che in questo video riuscirete a trovare tanti elementi che riusciranno a rendere la situazione un pochettino più chiara. Come sempre però, prima di cominciare, vi ricordo che sul sito drivek.it avrete la possibilità di vedere tutte le vetture in vendita in Italia oggi, quindi un listino completo navigabile con tutti i filtri possibili e immaginabili per identificare la vettura che può fare al caso vostro. Cliccate sul link in alto destro oppure qua sotto in descrizione per scoprire di più. Partiamo prima di tutto chiaramente dalle basi. Che cos'è l'Euro 7? Beh, sarà il nuovo standard omologativo in vigore dal 1 luglio 2025. Si tratterà di uno standard che riguarderà sia autobus e furgoni e camion, ma riguarderà anche le vetture per trasporto passeggeri, le automobili. Questo standard riguarderà tutte le motorizzazioni, nessuna esclusa, anche perché ci sono degli elementi che vanno quasi ad armonizzare un po' gli elementi inquinanti tra le vetture a combustibile, ma anche tra le vetture elettriche. Infatti, una delle grandi novità dell'Euro 7 sarà proprio un focus particolare, e anche molto severo, riguardanti finalmente il particolato da freni e da pneumatici. Quindi, sostanzialmente, tutte quelle microplastiche o comunque elementi di abrasione da parte delle pinze sui freni che vanno proprio a creare un particolato che è importante a livello proprio di inquinamento. Ed è uno di quegli elementi che non si cita di solito, ma che in realtà contribuisce moltissimo, proprio in questo senso, soprattutto se lo andiamo a prendere su vetture particolarmente pesanti o sui mezzi pesanti. Un altro focus particolare dell'Euro 7 riguarda sicuramente l'ammoniaca, le emissioni di ammoniaca, che poi sono il risultato proprio dell'utilizzo in larga parte della D-Blue su mezzi pesanti, ma anche su vetture, proprio perché vanno sì ad abbattere determinati inquinanti, ma possono andare a crearne altri che possono essere comunque dannosi, come appunto l'ammoniaca. E quindi anche in questo senso viene fatto un passo ulteriore per andare di fatto a ridurre le emissioni, che è poi anche l'obiettivo proprio dell'Euro 7. Da quando sarà in vigore? Come vi dicevo, primo luglio 2025, ma solo per le auto. Primo luglio 2027 invece per i camion e gli autobus. Questo adeguamento a livello industriale chiaramente avrà dei costi che si ripercuoteranno ovviamente anche sul listino, ma in realtà l'incremento del costo per le vetture a benzina dovrebbe essere sui 100-200 euro per singola vettura, mentre per le vetture a gasolio dovrebbe essere decisamente più alto, circa 350 euro, ma fino anche a quasi 1000 euro a singola vettura, il che vi fa anche capire qual è poi di fatto l'ambiente in cui si muove lo sviluppo del diesel, che ormai è stato infatti soppiantato proprio da soluzioni ibride a benzina, proprio perché i costi di adeguamento alle norme sempre più stingenti è diventato, non dico proibitivo, ma sempre più impattante a livello percentuale sul costo dell'auto. Perché l'Euro 7 segna un importante cambio di passo? Perché stando a quanto deriva dalla documentazione della stessa Commissione Europea, basandosi sulla riduzione delle emissioni di automobili, furgoni e mezzi pesanti, gli ossidi di azoto derivanti dal trasporto su strada potrebbero essere ridotti fino al 90% nel 2050 rispetto al livello del 2015, ma la riduzione del particolato 2.5 o 10 è inferiore a causa del relativo crescente contributo di fonti diverse da quelle dello scarico, principalmente l'usura di pneumatici e freni. Più o meno allo stesso risultato sono arrivati anche altri studi indipendenti, come quello di AERIS. Le emissioni di particolato 2.5 da 2005 al 2020 si sono ridotte drasticamente, grazie all'applicazione proprio dei filtri antiparticolato. Questa tendenza dovrebbe anche continuare a migliorare con il tempo, mano a mano che le vetture più vecchie vengono sostituite da quelle più nuove. È previsto infatti che entro il 2025 circa il 75% di tutte le emissioni di PM 2.5 del trasporto su strada proverranno da fonti non di scarico, e questo aumenta all'87% entro il 2030 e al 91% entro il 2035. Fino a qua quindi l'obiettivo dell'Euro 7 è interamente chiaro e soprattutto chi è assolutamente non concorde con il full electric in Europa da 2035 in avanti ha gioito alla notizia dell'Euro 7 pensando appunto che sarebbe stata una buona notizia per i motori a combustione interna. Anche se secondo me così a primo acchitto credo che poi all'interno delle aziende siano stati in pochi in realtà a gioire, perché effettivamente sono richiesti moltissimi soldi, moltissimi investimenti sia in tutte le tecnologie rispondenti all'Euro 7 e lo saranno ancora di più tutte le tecnologie legate proprio allo sviluppo della mobilità elettrica. E qua subentra un elemento, una prima discrepanza, proprio tipicamente politica. Il perché, presto detto, le istituzioni europee che si occupano di mettere in campo le politiche necessarie a raggiungere determinati obiettivi non sono un unico monolite che si muove tutto in un'unica direzione, ma in realtà al suo interno concorrono commissioni e dipartimenti differenti che hanno obiettivi diversi. E in effetti la proposta della messa al bando delle vetture termiche da 2035 in avanti è stata mossa proprio dalla commissione dedicata al Green Deal. Questa commissione è il Dipartimento dell'Ambiente guidato attualmente da Timmermans come obiettivo sostanzialmente possiamo dire alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'Unione Europea. Di recente però un'altra commissione ha fatto parlare di sé, e sto parlando in particolare del suo portavoce, ossia Thierry Breton, ha fatto parlare di sé proprio perché ha annunciato che dal 2026 potrebbe scattare una clausola, diciamo così, un freno d'emergenza per permettere quindi che ci sia una revisione della data del 2035. Quindi si è trattato proprio a tutti gli effetti di una sorta di braccio di ferro tra due commissioni differenti che hanno appunto obiettivi differenti. E di cosa si occupa nello specifico la commissione guidata da Breton? Si occupa di mercato interno o comunque di mettere insieme tutte le condizioni che permettono alle aziende europee di operare su scala globale. Spesso si fa riferimento alle istituzioni europee come la commissione europea come se fosse appunto un monolite, ma in realtà all'interno ci sono delle forze differenti che operano a volte anche l'una in contrasto alle altre, quindi si tratta sempre di cercare un punto di equilibrio. Ora, perché è importante tutto questo? Perché ve lo sto raccontando? Ci arriviamo tra poco, intanto mettiamolo da parte e torniamo al nostro Euro 7. Per parlare dell'Euro 7 e soprattutto della sua presunta utilità ancora a questo punto, poi arriviamo magari a tirare qualche conclusione, parliamo dell'inquinamento dei trasporti, perché molto spesso su questo punto si fa un sacco di confusione, appunto affermando che le automobili non inquinino, comunque non rappresentano in realtà una larga parte dell'inquinamento prodotto proprio dai trasporti. E in questo senso ci sono stati tanti studi nel corso degli anni che hanno in realtà portato dei dati differenti. Vediamoli. Gli studi scientifici che sono riusciti a rintracciare riportano percentuali di poco differenti, ma bene o male tutti allineati. Secondo dati delle Nazioni Unite, fornite direttamente dagli stati membri che ne fanno parte ed elaborati da Transport and Environment, le emissioni derivanti dal trasporto su strada riguardano il 22% del totale. Di questo 22%, il 16% deriva dal trasporto di vetture o van. Negli Stati Uniti, secondo l'EPA, le emissioni derivanti dal trasporto sono del 27%. Di questa percentuale, dal trasporto leggero, quindi auto e veicoli commerciali leggeri, arriva il 57% delle emissioni di gas serra. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, la maggior parte dell'inquinamento proviene dai veicoli passeggeri, automobili e autobus, che contribuiscono per il 45%. L'altro 29% proviene da camion che trasportano merci. Inoltre, l'intero settore dei trasporti rappresenta il 21% delle emissioni totali a livello globale. Insomma, come avete visto, i dati sono tutti più o meno simili gli uni alle altri, cambiano davvero di pochi punti percentuali. Quindi, se dovessimo farci la domanda all'automobile, inquina la risposta evidentemente è sì, e anche in maniera importante nel computo, o quantomeno degli ossidi di azoto, della nitride carbonica immessa in atmosfera. È vero però che ci sono anche altri settori che in maniera altrettanto importante vanno ad impattare negativamente sull'ambiente. E quindi a questo punto la domanda potrebbe essere modificata in, ha senso tutto questo accanimento nei confronti del trasporto privato e dell'automobile, ma anche in questo caso c'è stato di recente un evento che nel suo disastro totale che ha creato, beh, si è rivelato particolarmente utile in questo senso per darci una risposta. Nella sfortuna che è capitata all'umanità nel corso degli ultimi tre anni, c'è l'evento per eccellenza che ha rappresentato un'occasione più unica che rara per tutti i ricercatori mondiali, che infatti non si sono fatti scappare l'occasione. Ci sono stati diversi studi relativi proprio alla pandemia, al lockdown e all'interdizione del traffico privato sulle strade di tutto il mondo, o comunque a una limitazione di larga parte di esso. Già ad inizio del 2020 l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, aveva pubblicato immagini inequivocabili. Queste immagini parlano chiaramente, la concentrazione di inquinanti in alcune aree è drasticamente calata. Queste aree rappresentano quelle più densamente popolate del nostro paese, ossia la pianura padana in generale, con i piccentro a Milano, Roma e Napoli, le tre principali città. Queste immagini però non raccontano tutta la realtà, perché riferirsi all'inquinamento in generale è sbagliato. In effetti l'inquinamento è composto da diversi composti, pertanto è stato interessante poi andare a vedere i risultati dei vari studi condotti successivamente. In particolare ha fatto molto scalpore uno studio ripreso anche da Bloomberg, che affermava appunto che durante il lockdown era calato, sì il diossido e di azoto, ma in realtà il PM2.5, quindi il famoso particolato estremamente pericoloso per l'uomo, era addirittura aumentato. In realtà poi andando a vedere quello studio, io l'ho fatto e ve lo lascio qua sotto in descrizione per completezza proprio delle fonti, ebbene in quel caso nel paragrafo delle conclusioni si vede chiaramente appunto le stesse persone che hanno redatto questo studio, dicono che è stato fatto con limiti di tempo molto stringenti, quindi un po' di fretta e prendendo in riferimento soltanto due elementi, e quindi arrivare a delle conclusioni era un po' troppo affrettato. Ma questi studi sono stati fatti poi con calma successivamente, in maniera anche molto approfondita. Vediamo i risultati. In particolare uno studio è stato condotto nella città di Wuhan, sì, proprio lei, e ha mostrato un incremento significativo della qualità dell'aria durante i periodi di lockdown, con una riduzione degli inquinanti. E questo è vero per tutti gli inquinanti, tranne che proprio per il particolato, che è calato ma non in maniera così significativa. Studi come questo sono stati realizzati in tutto il mondo, dall'America all'Europa, all'Africa, all'Asia, chiaramente come vi dicevo, ma sono arrivati tutti sostanzialmente alle stesse conclusioni. Vi risparmio i singoli dettagli di tutti gli studi che mi hanno richiesto davvero una quantità di ore inerrabile per trarre proprio le conclusioni, per poterle raggruppare. Spero di farlo nel modo più preciso possibile in questo video, ma comunque arrivano tutte alle stesse conclusioni. C'è stato sì una riduzione importante di tutti gli inquinanti sostanzialmente, in maniera minore proprio del particolato, sia 10 che 2.5, ma in alcuni casi c'è stato addirittura proprio in effetti un incremento di un inquinante, di cui in realtà si parla poco sostanzialmente, o meglio negli ultimi anni si è parlato davvero poco di quest'ultimo, ossia l'ozono. E nello specifico a definire l'ozono O3 ci aiuta la definizione fornita dall'ARPA, che specifica che l'ozono è un gas dotato di elevato vapore ossidante, di colore azzurro e dall'odore pungente. È un inquinante molto tossico per l'uomo, è un irritante per tutte le membrane mucose ed un'esposizione critica e prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema polmonare. Insomma un elemento con cui davvero non avere niente a che fare, possibilmente, ma tornando allo studio condotto a Wuhan, si legge proprio come l'innalzamento, anche in quel caso dei quantitativi di ozono O3, ha corrisposto con i minimi livelli di NOx e di PM2.5. L'ozono O3 si forma in atmosfera per effetto di reazioni favorite dalla radiazione solare, in presenza dei cosiddetti inquinanti precursori, ossia soprattutto ossidi di azoto e sostanze organiche volatili, che portano alla formazione di molecole costituiti da tre atomi di ossigeno, o tre appunto. Seguendo questa definizione però, ci si aspetterebbe una diminuzione dell'ozono in corrispondenza di un numero di precursori, di inquinanti, quindi di ossidi di azoto in questo caso e PM2.5 inferiore. In realtà se andiamo a riprendere lo studio di Wuhan, che abbiamo visto poco fa, ebbene in quel caso i picchi massimi di ozono O3 sono stati riscontrati nel momento in cui il PM2.5 e i diossidi di azoto erano ai livelli minimi. Gli stessi risultati sono stati riscontrati, come dicevo, in altri paesi, come ad esempio in Messico, a Città del Messico, in Inghilterra, Londra e a Nuova Delhi, in India. Arrivando a concludere, tutti gli studi che sono riusciti a rintracciare arrivano alla conclusione che l'inquinamento atmosferico è un problema complesso legato a molteplici fattori. La riduzione degli scarichi inquinanti migliorerà sì la qualità dell'aria, ma potrebbe anche portare nuovi problemi. Il meccanismo di generazione degli inquinanti secondari dovrebbe essere studiato per fornire una base scientifica più completa per la formulazione di politiche di prevenzione e controllo degli inquinanti. Il che, tradotto, significa che ovviamente la riduzione del traffico veicolare ha portato a un'importante riduzione degli inquinanti, non però nella misura che ci si sarebbe aspettati e non con i risultati che ci si sarebbero aspettati. Infatti, tutti gli studi che abbiamo citato fin qui, che ho potuto consultare, arrivano tutti alla stessa conclusione, andando proprio a suggerire delle politiche che siano davvero omnicomprensive di tutte le fonti di inquinamento, proprio per permettere di migliorare la qualità dell'aria, senza però andare a creare degli ulteriori problemi. Anche perché bisogna ricordarsi che effettivamente durante il lockdown alcuni dei settori maggiormente inquinanti, come appunto l'industria e l'agricoltura, comunque non hanno subito dei veri e propri blocchi, evidentemente, come del resto non l'ha subito il trasporto pesante su gomma. Ma perché Alessio ci hai fatto una testa così con tutti questi studi? Beh, domanda più che lecita. La risposta è che ci sono sostanzialmente due elementi fondamentali, secondo me. Il primo è che fa impressione vedere la quantità enorme di dati, davvero di ricerche condotte in questo senso nel corso degli ultimi mesi e anni, che testimonia a sua volta l'altro secondo elemento importante, ossia quanto ormai queste tematiche siano al centro delle discussioni un po' in tutto il mondo, da quello americano e europeo, ma anche appunto quello asiatico, al contrario di quello che si pensa di solito. E questo a sua volta che relazione ha con il nostro Euro 7? Ha una relazione perché non dobbiamo dimenticare che tutte le aziende che operano in Europa, comunque operano poi anche all'interno di mercati globali e quindi devono produrre dei prodotti che siano rispondenti alle necessità di tutti i vari mercati e degli standard omologativi che appunto regolano questi mercati. Quindi torniamo a un punto precedente, a quello di cui vi parlavo, dello sviluppo del mercato interno e della commissione dedicata proprio al mercato interno. Ebbene, lo sviluppo dell'Euro 7 è fondamentale in quel senso. Ci sono mercati infatti in giro per il mondo che richiederanno in futuro proprio ancora dei veicoli con motore a combustione e quindi sarà necessario andare a proporre a questi mercati delle soluzioni sempre con carburante fossile che appunto permetterà di metterli in moto ma comunque che andranno a rispondere a delle necessità di riduzione delle emissioni. E se voi andate a vedere proprio gli standard omologativi che arriveranno negli Stati Uniti e in Cina anche che appunto poi rappresentano i mercati principali in giro per il mondo beh in quel caso sono addirittura in alcuni casi anche più stringenti rispetto a quelli previsti proprio per gli standard europei. Quindi è chiaro che vanno sempre portati sul tavolo degli standard omologativi ancora più stringenti per rispondere non tanto al mercato interno europeo ma più che altro a quello che poi rappresenta il mercato globale mondiale che poi di fatto è la fonte principale appunto di esportazioni e quindi a livello economico è una fonte di sostentamento fondamentale proprio per l'Europa e per il mercato interno come vedevamo. Arriviamo quindi a dare una risposta ovviamente questa è una mia interpretazione basata sui dati che sono riuscito a trovare su alcune considerazioni legate principalmente alle condizioni di mercato che si sono verificate e ovviamente anche agli investimenti annunciati e portati avanti dai produttori nel corso degli ultimi anni. Ovviamente beh la risposta alla domanda l'Euro 7 e la salvezza dei motori termici è che in realtà sostanzialmente secondo me non cambierà praticamente niente per il futuro. Questo perché? Perché di fatto avremo comunque in futuro dei produttori che spingeranno sempre di più verso una mobilità elettrica perché in quella direzione vanno le leggi attualmente in vigore dal 2035. Comunque questo è l'indirizzo generale proprio che è stato dato in virtù delle politiche ambientali che sono state appunto portate avanti in questi anni. E quindi è anche vero che si andrà sempre più in quella direzione. Dall'altro lato verrà garantito comunque un mix di vendite che porterà ad una riduzione delle emissioni proprio dei veicoli venduti nell'Unione Europea. Si tratterà sempre comunque di un mix di vendite che poi riguarderà anche dopo il 2035 perché di fatto fino al 2050 comunque è ancora prevista una larga parte proprio del market share quindi del quote di mercato dedicate proprio a vetture ancora a combustibile e con una maggioranza che però andrà sempre di più verso l'elettrico. Tutte le proiezioni vanno in quel senso e molto probabilmente non cambierà nulla riguardo a quelle che sono poi le condizioni di mercato portate avanti. Non soltanto dalle politiche ma anche dei produttori stessi che in effetti nel corso degli ultimi anni hanno rilasciato e soprattutto anche negli ultimi mesi hanno rilasciato da parte dei top manager diversi messaggi proprio di allarme verso l'auto elettrica, di scetticismo eccetera ma in realtà proprio all'interno dell'auto elettrica potrebbero aver trovato anche la soluzione a una delle industrie che poi ha i profitti, i margini di guadagni più bassi in assoluto quindi andare a standardizzare le produzioni, minori componenti, minori costi di produzione insomma tutto questo potrebbe dal punto di vista della manifattura avere un beneficio e quindi è anche vero che in futuro i produttori potrebbero andare sempre di più verso quella soluzione mano a mano e che le tecnologie diventano sempre più fattibili per un mercato sempre più ampio perché da un lato rappresentano a livello industriale un beneficio quindi aumentando proprio i margini e l'operatività dall'altro comunque poi non vanno ad intaccare quella che è la resa del mercato del trasporto privato che ha dimostrato nel corso degli ultimi anni e decenni in realtà di essere in grande forma ed avere un enorme mercato e quindi troveranno sicuramente il modo di farlo funzionare perché è vero e questo sembra che molti solo dimentichino a volte che il mercato appunto del trasporto privato è in grande salute sostanzialmente le persone stanno dimostrando di volersi muovere ancora e sempre di più probabilmente proprio con vetture private e quindi i produttori andranno necessariamente a trovare delle soluzioni che permetteranno uno sviluppo del mercato interno e cercando proprio di raggiungere questi obiettivi legati alle emissioni quindi sostanzialmente da qui in avanti anche per quel che riguarda l'Euro 7 non vedo grandi cambiamenti che possono andare a dire allora a questo punto l'Euro 7 rappresenta la fine dell'autobatteria e viceversa vedremo probabilmente come dicevo un mix delle due componenti spero che questo video vi sia piaciuto lungo, difficile, complicato lo so è stato un po' così però è anche vero che secondo me questi elementi vanno trattati comunque nel cercare di rendere un po' più chiare quali saranno poi le indicazioni future proprio del mercato europeo in cui ci muoviamo e anche quello globale chiaramente noi ci vediamo alla prossima sempre a questo live game mi raccomando continuate a farmi sapere la vostra nei commenti e soprattutto seguiteci sui nostri social iscrivetevi al canale e tutto quello che vi dico di solito alla prossima, ciao! iscrivetevi al canale